... Giovanni telegrafista e nulla più Stazzoncina povera, c'erano più albi di uccelli che persone Ma aveva il cuore urgente anche senza nessuna promozione Battendo, battendo su un tasto solo Elittico da buon telegrafista Tagliando fiori, preposizione Per accocciar parole, per essere più breve Nella necessità, nella necessità Conobbe alba, un'alba poco alba Neppure mattiniera, anzi mulatta Che un giorno fuggì, l'unico giorno in cui fu battutina Per andare a abitare città grande, piena luci, gioielli Piripiri 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 piripiri, storia viva e urgente Ah, inutilità alfabeto morse In mano a Giovanni telegrafista Cercare, cercare alba ogni luogo Profisto telegrafo Ah, quando invecchia, cumes Morosa, urgenza, Giovanni telegrafista E nulla più urgente Piripiri 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 Per le sue mani passò un mondo Un mondo che lo rese urgente Criptografico, rapido, cifrato Passò prezzo caffè Passò matrimonio eduardo Taro, oggi duca di Windsor Passarono cavallette in Cina Passò sensazione di una bomba volante Passarono molte cose ma tra l'altro Passò notizia matrimonio Alba con altro Piripiri 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 Giovanni telegrafista Quello dal cuore urgente Non disse parola Solo tre rondini neri Senza una minima intenzione simbolica Si fermarono sul singhiozzo Telegrafico Alba Urgente Piripiri 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 Grazie a tutti